buongiorno bentornati sul mio canale oggi col tema del deutsche Gesundheitssystem me l'avete chiesto voi alcuni giorni fa avevo chiesto su instagram se ci sono dei temi che vi interessano particolarmente e tra tutti è uscito questo quindi in pochi minuti cercherò di farvi un quadro completo di come funziona il sistema sanitario in germania cosa vi costa vediamo magari un paio di esempi pratici alla fine del video partiamo innanzitutto se vivete in germania è obbligatorio per legge avere una krankenkasse quindi una cassa della malattia il 90 per cento delle prestazioni sono uguali per tutte le gesetziche krankenkassen e voi avrete poi la vostra tessera che ha la stessa forma e dimensione di un bancomat per esempio ed è elettronica e per quell'assicurazione voi pagate un contributo mensile ma non ve ne accorgete perché viene sottratto dal vostro stipendio quindi il 14,6 per cento che va per la cassa della malattia il 50 per cento di questa somma viene tolta dal vostro stipendio lordo e l'altro 50 per cento viene pagato direttamente dal datore di lavoro di quanti soldi stiamo parlando ovviamente dipende un po da persona a nel mio caso per esempio sono sui 200 euro al mese poi siccome la germania è una società che si basa sul solidarietà quindi il principio di solidarietà paghiamo anche per le persone per esempio che non hanno un lavoro per i bambini per i rifugiati che quindi sono categorie che non hanno probabilmente un produttore di lavoro e quindi questi vengono inclusi nelle casse della malattia e il loro betrag lo pagano diciamo le persone sane e in età lavorativa poi tutti questi soldi che vengono raccolti per le casse della malattia vanno in un pentolone generale che si chiama centrale gesundheitsfond e da questo pentolone diciamo i fondi vanno suddivisi alle krankenkassen poi non tutte le casse della malattia ricevono gli stessi fondi perché chi ha più assicurati anziani riceve più fondi perché chiaramente si ammaleranno di più in media rispetto invece poi alle krankenkassen che hanno più diciamo pazienti giovani che quindi sono più forti più sani si ammalano meno spesso e poi insomma sono le krankenkassen stesse che se hanno bisogno di più soldi possono chiedere un un per cento in aggiunta ai loro diciamo assicurati se poi io ho dei problemi extra per esempio con i denti che è una cosa molto comune devo fare una privata su sa stia sicuro quindi una assicurazione privata in aggiunta posso farla con qualsiasi tipo di assicurazione standard ma poi c'è anche un altro tipo di assicurazione per la sanità che è la privata krankenversicherung queste assicurazioni non ricevono fondi dal centrale gesundheitsfond da questo pentolone di cui parlavamo i pazienti quindi i clienti pagano più o meno a seconda di età stato di salute prestazioni desiderate e quindi non dipende da quanto guadagnano comunque calcolate che solo l'undici per cento della popolazione tedesca è assicurata privatamente alla fine del video vediamo pro e contro delle due assicurazioni ma chi è che è assicurato privatamente allora parliamo delle persone che lavorano in proprio dei funzionari quelli che in tedesco si chiamano beante poi vi metto la lista sotto magari e per esempio chi lavora nell'esercito chi studia che ha di solito dei tassi agevolati e quindi è assicurato privatamente poi se supero un certo limite di guadagno che in tedesco si chiama jahres arbeids engels grenze questa è una parola come uno scioglilingua che nel 2022 è stato fissato a 64.350 euro di stipendio lordo annuo allora a questo punto sono al di fuori del limite imposto diciamo per legge e quindi posso fare un'assicurazione privata a questo punto la domanda che sorge spontanea è sì bene assicurazione per legge assicurazione privata ma cosa cambia allora io conosco poche persone che hanno l'assicurazione privata e pagano parecchio al mese può variare dai 200 250 euro di minima ad anche 600 euro al mese questo ovviamente dipende dalla vostra età come dicevamo se avevate patologie pregresse e dalle prestazioni che voi volete avere incluso quindi è diciamo vantaggiosa eventualmente se siete giovani e single questo è quello che viene sempre un po detto in maniera semplificativa non è più tanto vantaggiosa se cominciate ad essere più anziani ad avere acciacchi e ad avere famiglia perché la gesetziche crank in casse vi va ad assicurare anche i figli se avete figli gratuitamente e se avete un partner che per esempio non lavora potete assicurare anche lui tramite la vostra assicurazione della malattia sempre gratuitamente con l'assicurazione privata invece dovete fare delle nuove assicurazioni private e ogni assicurazione costa quindi se voi calcolate magari siete una famiglia di 4 con l'assicurazione della gesetziche crank in casse pagate un contributo e avete quattro persone assicurate con l'assicurazione privata avete quattro assicurazioni ognuna da pagare quindi il costo totale alla fine è molto differente oltre al fatto che l'assicurazione privata vi passa si tante prestazioni del medico e ci sono alcuni medici che non vengono passati dalla cassa della malattia standard ma io non li ho mai trovati non so saranno dei medici molto speciali non ne ho idea c'è da dire poi che con l'assicurazione privata dovete pagare tutte le prestazioni che fate prima di tasca vostra e poi dopo l'assicurazione vi rimborsa i costi però quello che tanti dicono è sì ok però se io ho bisogno di una prestazione che costa 10 mila euro devo intanto tirarli fuori di tasca mia e poi l'assicurazione mi ridà i soldi quindi chiaramente chi ha un guadagno non altissimo non fa la cassa della malattia privata mentre con la cassa della malattia standard di solito più o meno tutte le prestazioni che sono necessarie e che servono per la vostra salute certificato da un medico vengono passate diciamo gratuitamente o quasi vi faccio l'esempio su di me io ho problemi a volte alla cervicale perché ho avuto due incidenti in macchina e quindi cambia il tempo viene freddo eccetera lo sento perciò il mio medico mi ha fatto fare tanta fisioterapia e anche lì tipo facevo un'ora di massaggio e per sei massaggi alla fine io pagava un contributo di 25 euro quindi sei ore di massaggio con 25 euro di contributo insomma è una cifra molto molto amica secondo me poi per esempio abbiamo fatto anche lago puntura quindi abbiamo fatto una decina di sedute di agopuntura siccome c'era il referto medico che era utile per il mio collo per la mia cervicale quindi per la mia agopuntura alla fine non ho pagato assolutamente niente poi dipende ci sono dei trattamenti che non puoi farne all'infinito puoi farne un tot di per esempio non so 10 20 sedute all'anno poi devi aspettare un tot di mesi e poi puoi fare altre sedute ma poi dipende un po dai trattamenti eccetera perché per esempio io adesso posso rifare lago puntura a dicembre perché ho fatto le mie sedute tra dicembre e gennaio e le sedute diciamo passate gratuitamente per quest'anno 2022 sono terminate fino a dicembre quindi a dicembre posso fare un altro ciclo di agopuntura altrimenti se lo facessi adesso dovrei pagarlo io ma non ho idea di cosa costi perché tanto non ha senso non ha senso perché se puoi aspettare non c'è un problema dice vabbè aspetto tre mesi in più per dire alla fine voi direte vabbè ma che senso a questa cosa della cassa della malattia privata allora se la cassa della malattia standard mi passa più o meno tutto e dipende nel senso che ci sono persone che guai con la cassa della malattia privata sono contentissime super soddisfatte perché ti dà un trattamento vip praticamente quindi se vai per esempio in ospedale e devi essere visitato ai precedenza su tutti gli altri malati se sono assicurati con la cassa della malattia standard e puoi anche richiedere che per esempio il primario ti visiti e non che ne so il medico che è di turno mentre se sei con la cassa della malattia standard fai eventualmente la tua fila e poi ti visita chi ti visita oppure sempre se sei assicurato privatamente e prendi un appuntamento dal medico ai anche lì la priorità su tutti gli altri pazienti non assicurati privatamente quindi insomma è un po un trattamento appunto vip che ad alcuni piace anche se potrebbero avere la cassa della malattia standard altri devono avere la cassa della malattia privata perché se sei improprio non hai un datore di lavoro quindi devi per forza fare la cassa della malattia privata ecco secondo me comunque una cosa che va menzionata siccome sicuramente abbiamo tutti in mente gli standard italiani no che ti serve un appuntamento vai alla mutua e magari il primo buco libero è dopo sei mesi e in germania non è così cioè anche con la cassa della malattia standard se tu chiami un qualsiasi medico normalmente dopo una o due settimane ti danno l'appuntamento se sono medici dove c'è veramente da aspettare tantissimo è un mese massimo due forse mi è capitato di attesa ma non avevo cose urgenti magari visite di rutino così dipende un po insomma da che cosa hai bisogno magari se devi andare dal dermatologo esempio siccome non è che ce ne sono in sovrabbondanza magari lì hai un attesa di un mese prima che ti danno un appuntamento però non sono mai tempi geologici quindi ecco anche se si è abituati alla sanità italiana con i suoi tempi a volte geologici la sanità tedesca standard diciamo non quella via ip funziona comunque meglio o funziona comunque bene secondo me e così siamo arrivati alla fine anche di questo video spero sia stato esaustivo e abbia magari fatto un po chiarezza sul come funziona la cassa della malattia o comunque la sanità in germania se avete domande di qualsiasi tipo scrivetele qui sotto poi vi rispondiamo e niente se il video vi è piaciuto pollice in su e noi ci vediamo se riesco la settimana prossima con un nuovo video ciao